Siamo qui allo Stadio Carlini per la terza edizione della Gerbino's Cup, un evento sportivo chiaramente organizzato dal CUS Genova. Oggi verranno fatti i beach volley su questi due campi qua e poi pomeriggio partirà il calcio tennis. È una giornata dedicata appunto al divertimento e allo sport. Ci stiamo divertendo, è un torneo ben organizzato e la mia squadra sta anche andando meglio del previsto, quindi sono contenta. Continuate a organizzare questo tipo di eventi perché ci divertiamo tutti. Oggi è una bellissima giornata e grazie alla Gerbino's Cup ancora di più ci possiamo svagare prima di una grande sessione estiva. Ciao, sono Fabrizio Fiore, sono uno studente di ingegneria e oggi siamo allo Stadio Carlini per questa Gerbino's Cup. Ringrazio il CUS Genova che ci dà la possibilità di rilassarci un po' anche perché le lezioni sono finite, poi cominciano gli esami, un bel sabato passato in compagnia di amici al sole. Mi raccomando seguite CUS Genova su Instagram perché ci sono tante promozioni, tante cose, tanti eventi e quindi partecipate numerosi perché ne vale veramente la pena.